ciao ragazzi bentornati sul nostro canale oggi camilla ti insegno i numeri uffa non ti preoccupare ho trovato un modo super divertente per impararli guarda e ne dico la cosa ho trovato le figurine di bing wow è il mio preferito con questo puoi imparare i colori i numeri gli animali la natura e ovviamente ho preso anche le figurine ma camilla tu conosci i numeri? si vediamo questo che numero è? 4 e questo? 6 no camilla adesso ti insegno io allora iniziamo ad aprire la prima bustina ci sono 20 figurine sbrilluccicanti e 20 figurine trasparenti wow ma tu sai aprire le figurine? come si fa? ok vai apri le figurine vediamo che figurine ti sono uscite camilla chi è questo? bing! poi è uscita? è una biblioteca del dottore poi? la pasta di bing! questo chi è? il bimbo! questo si chiama ciarmi camilla e poi una figurina sbrilluccicante qui c'è? sulla e bing! ok adesso scegli una figurina che vuoi attaccare prendiamo questa qui questi che numerini sono? 6 e 4! bravissima adesso andiamo a vedere la pagina dov'è? poi tu lo scegli eh? vediamo un poco 6 e 4 6 e 4 ecco qui camilla dove va questa figurina? è uguale il numero? no! questo? no! questo? 6! ok vai attacca qui bene precisa con due mani brava! vai vai ce la puoi fare? vai! ed ecco qui guardate com'è stata bravissima camilla ad attaccare questa bellissima figurina andiamo avanti vai quale vuoi? questa qui sbrilluccicante vogliamo attaccare? vediamo che numerino è? questo è? 1 e 4! no camilla 1 e 3 è sbagliato di un numero vabbè dai è la prima volta vediamo un po' ecco qui dove va questa figurina? vedi un poco dove va? questo è uguale? bravissima va qui e questa è una figurina sbrilluccicante aspetta che qui ti aiuto vai attacca camilla camilla ma sei bravissima ad attaccare le figurine dai la prossima figurina vediamo un poco questa qui con charlie vediamo che numerino è? 6 e... va bene camilla ti aiuto io perché questo è un numero con due numeri questo qui è il numero 30 il numero 30 si trova in questa pagina dov'è? bravissima ma camilla sei diventata bravissima con i numeri bravissima ormai è diventata brava anche ad aprire le figurine ma sei più brava di me ultima no non l'ultima figurina la penultima questa è la valigetta numerino questo è il numero con tre numerini vedi 1 1 e 0 e 110 adesso andiamo alla paginetta dove? dove? ah qui vedi camilla sono gli sticker degli attacchi e stacchi stavo dicendo ecco qui vediamo eccola qui dove va la valigetta? vai fai tutto tu visto che sei brava vediamo un poco vedi dove va? vedi bene bravissima vai attacchiamo la valigetta poi qui camilla ho visto che ci sono le storielle da raccontare gli episodi ok vai prendi l'altra figurina con bing che numerino è? questo è un altro con tre numerini 1 3 6 vieni qua no non sta qua vieni qua andiamo un poco no non sta nemmeno qua ecco qui camilla si trova in questa pagina dov'è? eccola qui vai stira o qua dove abbiamo detto che andava? qua vai e questa è una figurina vedi ha due attacca bene mi raccomando oh che so bravissima camilla vogliamo aprire un'altra bustina? quante bustine vogliamo aprire? cinque cinque bustine ok vai vediamo un poco aspetta ti aiuto vieni chi è questo? bing! questo? bing! questo? bing! questo? bing! questo? fatto! il gattino e abbiamo trovato anche una sbrilluccigante e qui è il compleanno di? bing! ah no non è il compleanno io non ci vedo camilla qui è bing che legge vogliamo attaccare prima il gattino? si! allora numerino 87 andiamo a vedere dove aspetta siamo qui ecco qui sta sta qui negli animali bravissima camilla vai questa è una trasparente ma camilla attacca qui ok adesso camilla vogliamo fare questo giochino guarda qui dice di trovare l'ombra degli animali qual è l'ombra del gattino? qual è quella dell'ombra del gattino? bravissima ma lei è super brava questo qui è un numero? uno e uno uno e uno undici dov'è la figurina? è volata ogni tanto volano le figurine undici undici e una di queste tre undici bravissima vai vieni aspetta ti aiuto? no lei fa tutto da sola ragazzi io nel frattempo si stiamo in posto questa scrivania guardate qua che cosa abbiamo guardato no dove la metti? camilla ricordati i numerini soli metti dalle altre parti altra bustina altra figurina mettiamo bing che numerino è 79 no è 75 vieni andiamo 75 ripeti no 65 no 65 75 75 no 65 75 75 eh 60 sì scusa vabbè però io mi sto imbrogliando ripeti 75 75 va bene dai allora ecco qua dove va la 75? qua? 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 no qua? no sicura? qua eh l'abbiamo trovato vai ce la fai? sicura? ok ok ecco qua ce l'ha fatta vai attacca qui qui è il teatrino ecco qua dai prendi un'altra figurina qui c'è bing triste qui c'è bing triste vediamo che numerino è brava super l'ha trovato tu l'hai visto questo questo episodio? si? ti è piaciuto? ma a te ti piace bing? lo vedi tutti i giorni? si ultima figurina eccola qui qui ci sono tutti gli amici che numero è? 103 andiamo 103 103 103 103 103 camilla no sento 103 20 va bene dov'è 103? no 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 questo è 105 ci sono le 103 aspettate dov'è 103? 103 ok bravissima questo è l'episodio che giocano a palla tu l'hai visto? ti è piaciuto? no non l'hai visto? allora dopo corriamo subito a vederlo va bene? ok ce la fai? si vai ultima figurina bravissima camilla allora hai imparato i numeri? si ok vediamo facciamo vediamo facciamo un test vediamo questo che numero è? 7 bravissima camilla questo? 9 bravissima vedete camilla ha imparato con questo bellissimo album di bing adesso lo sai cosa faccio? si io me lo prendo no e me lo attacco io si perchè a me piace attaccare le figurine no va bene facciamo così prima salutiamo poi dopo me ne vado ad attaccare io va bene? se vi è piaciuto questo video mettete i dati e i posti su iscrivetevi al canale condividete tutti e noi ci vediamo al prossimo video ciao questo è mio ma me l'ho morto no allora mi vedete anche corriendo ciao ciao